E quindi la prima venuta e la seconda venuta di Cristo sono un fattore straordinario nella storia dell'umanità, importantissimo. Oggi nessuno aspetta Cristo, eppure lo diciamo sempre, perché nell'ottica di tutta questa situazione che sto spiegando, nascita, crescita, invecchiamento e morte, è la profezia, la profezia è l'enunciazione di chi ha creato e aveva in testa un progetto di cosa vuole ottenere, e cosa vuole ottenere Dio col progetto creazione dell'umanità? Il regno! Ma per avere un regno bisogna avere i cittadini, se no non c'è il regno, il regno non è case, palazzi, strade, tecnologie, il regno è se c'è l'uomo, se no non è un regno, un luogo disabitato. Quindi prima di fare il regno bisogna formare i cittadini del regno, quello è venuto a fare Cristo, ma siccome lui è il legislatore, i suoi progetti, lui li manifesta o sì o sì, perché ha in mano le leggi. Quindi la profezia è un fatto di anticipazione, di storia, non di credo religioso. Il credo religioso è un inganno, non produce effetti nella realtà se non la dissoluzione della società è la follia dell'umanità. Ecco quindi che questa profezia noi ce la raccontiamo, ma facciamo come un registratore meccanico che ripete a pappardella cose che non capisce e nemmeno ascolta, anche se dette dalla propria bocca. Fu crocifisso per noi, impattì sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Vero che vi è scattato l'automatismo e l'avete ripetuto? Quante volte abbiamo recitato? Quante volte abbiamo pensato che Cristo torna? Mai. Mistero della fede, annunciamo la tua morte o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Chi sta aspettando la venuta di Cristo? I cristiani no, stanno distruggendo il mondo, lavorano secondo l'anticristo. Quindi siamo dei dissociati. Il libro dell'Apocalisse, l'Apocalisse è rivelazione, Apocalisse vuol dire la rivelazione. L'Apocalisse inizia e finisce allo stesso modo, inizia col ritorno di Cristo, finisce col ritorno di Cristo perché l'Apocalisse è divisa in tre sezioni, la sezione dei sigilli, la sezione delle trombe, la sezione delle coppe. Ecco, e già troviamo la reincarnazione. Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto, cioè di fronte alla magnificenza del potere divino e delle legioni di Cristo, tutto il mondo dirà mea culpa, mea maxima culpa. Perché sarà un fatto storico, reale, tecnologico, fisico, il ritorno di Cristo. Quindi Cristo torna. Ora, perché Gesù dice che l'avrebbero visto anche quelli che lo trafissero? Perché si sarebbero reincarnati? Tra l'altro, chi ha ucciso Gesù, diciamo, l'ha proprio ucciso fisicamente, sono stati gli italiani. Perché nel momento che Gesù era a Gerusalemme c'era la legione italica, c'erano proprio i soldati italiani a Gerusalemme. L'ungino, ad esempio, era calabrese. Noi abbiamo ucciso Cristo, per questo lui ci perdona. Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Non sta perdonando gli ebrei, gli ebrei li ha maledetti il Signore. Gesù maledice Gerusalemme, li ha maledetti tutti, perché gli ebrei erano stati preparati da migliaia di anni all'avvento del Messia. Il Messia viene, viene riconosciuto dalla casta sacerdotale e dice Oh, ragazzi, la faccia è finita. Ma che fanno? E non possiamo andare a faticare. Sto parlando romanesco, chiederebbe qualcuno. Ma quelli così hanno ragionato. C'è il Messia, poi ve lo dimostro dal Vangelo, non è che lo dico io. C'è il Messia, qui abbiamo finito di sfruttare il popolo. Ciao, potere, è arrivato lui, che facciamo? Bah, uccidiamolo, va, che è meglio. Così hanno ragionato questi folli e il popolo gli è andato dietro. Quindi Gesù li maledice. Ma arrivano i soldati romani, deficienti, italiani, sempre uguali, non cambiamo mai. Oh, c'è uno, crucifiggiamolo. Ma il figlio di Dio, vabbè, ce ne sono tanti. Ma Gesù dice, padre, perdonali, cioè gli toglie il karma. Perché gli toglie il karma? Interessante. Perché, avendo maledetto Gerusalemme, Gesù si vuole portare via da quel popolo maledetto tutti coloro che lo avevano riconosciuto, servito ed amato. E quindi cosa fa? Ecco, io sceglierò un popolo che non era il mio popolo, al di là del fiume Giordano, la Galilea dei Gentili, l'Italia. Sceglierò un popolo, gli italiani, che non era il mio popolo, gli ebrei. Perché gli ebrei tradiscono, lo uccidono. Potere e popolo. E quindi Gesù si piglia i suoi e li manda a reincarnarsi nel mondo latino. Ecco perché l'Italia diventa il centro della cristianità. C'ha le più grandi opere d'arte religiose. C'ha i più grandi santi della storia del mondo. C'ha i santi più numerosi. Perché quelli sono le reincarnazioni degli apostoli e dei discepoli di Gesù il Nazareno. I Giovanni Battista, gli Elia. Sono la stessa persona. Perché Giovanni Battista è la reincarnazione di Elia. Lo dice Gesù nel Vangelo, adesso ve lo leggo. E quindi li manda in Italia. Sceglie il popolo che non era il suo popolo. Per questo l'Italia è il centro della cristianità. Ma è un fatto scientifico perché quella gente che sceglie Gesù ha una genetica DNA particolare, particolarmente intelligente e creativa. Ecco perché noi italiani che viviamo in un territorio senza materie prime siamo una delle sette potenze economiche del mondo. perché abbiamo una creatività eccelsa data da quella genetica solare che Cristo manda a incarnarsi in Italia. Per questo l'Italia è sotto attacco. Perché Lucifero attraverso i suoi strumenti, l'anticristo, le grandi banche, gli Stati Uniti d'America, ci vuole annientare. Ci vuole estinguere. perché se noi sopravviviamo loro hanno finito. Ora il problema è uno, il popolo italiano è diviso.